È un doveroso tributo a Elisabetta Emelio intitolargli la Casa della Musica. Avviene nel segno dell'unità, dell'unità di tutta la città, delle sue componenti culturali, artistiche e musicali. È certo anche un giorno di dolorosi ricordi, ma anche nello stesso tempo un giorno di festa, di gioia, un giorno di rinascita, perché rinasce un posto che prima era a buio e abbandonato e rinasce proprio nel segno della musica. Qui infatti è stata aperta la Casa della Musica e credo e spero che Elisabetta avrebbe fatto piacere. È un giorno sicuramente, una serata sicuramente emozionante. Esseramente emozionante e noi siamo molto orgogliosi della città di Pordenone, che ha voluto dedicare la Casa della Musica a Elisabetta, perché Elisabetta, oltre a essere una musicista che qui è nata, qui si è nutrita di musica, ha portato la musica in Italia con dei progetti molto importanti per il ruolo della donna e per il tipo di persona che lei è stata e che continua ad essere per noi e ciò che per noi rappresenta una carica vitale. Mi sento circondata da tanto amore e sento che ora ho bisogno di donarla agli altri, questa mia felicità. Mi raccomando, abbiate cura di voi, del vostro corpo e della vostra anima. Scoprite ciò che amate, il vostro talento, e non perdete tempo. E poi, vorrei far capire a chi mi ascolta che la vittoria non sta nello stare in vita o nel morire, nel non avere più il tumore o nell'averlo ancora. Saremo tutti dei perdenti altrimenti, perché presto o tardi finiamo tutti per morire. La vera vittoria sta nel decidere di essere felici. Ieri ho pianto. Oggi ho deciso di prendere il bello di questa giornata, di cantare, di esibirmi. Elisabetta. Jacopo, allora sei contento che questa casa della musica è dedicata a tua mamma? So che ci vieni anche tu qui. Sì, è vero, e mi diverto anche perché mi sembra di suonare anche insieme a mia mamma.